Sono stato primo firmatario di questo provvedimento di legge che oggi è stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale per finanziare ulteriormente la gradatoria relativa alle piccole e piccolissime e medie imprese dell'area cratere. Già eravamo intervenuti con un primo intervento di 250.000 euro, oggi abbiamo aggiunto altri 93.000 euro, circa 350.000 euro a disposizione delle piccole e piccolissime imprese dell'area cratere. Una legge approvata dall'amministrazione precedente e rifinanziata in questa legislatura.